La domanda non le faccio a pensare, io sia un pazioso. Lei ogni volta che viene a Benevento ha sempre detto che ha dato questione di calcio, poi per focalizzare il suo personaggio che parla di Capuano, lo Spavaldo, ha anche detto che veniva Benevento a vincere, ma con la squadra così impostata, senza azioni offensive, senza neanche un tiro in porta, come pensava di farlo? Forse su Marte? Grazie. La sua domanda non merita commento, perché è una domanda sarcastica, ingenerosa, impopolare, soltanto frutto di manchevolezza di idee, perché mi fa una domanda del genere, offende la mia intelligenza. Io non ho mai detto che ho dato lezioni di calcio, non ho mai detto che venivo a Benevento a vincere, probabilmente lei è talmente incompetente da non conoscere nemmeno il potenziale del Sora, che ho una sola punta in organico, che è Pasca e non ho altri giocatori. Quindi mi soffermo soltanto su questo e li faccio i complimenti perché l'ho sentita anche ieri Spavaldo. Io sono una persona che ha costruito quel poco del mio successo sull'umiltà, sul perbenismo e sul lavoro. Mi dispiace che lei dice queste cose, dove dimostra anche via nei miei riguardi cattiveria e soprattutto una totale incompetenza. Su piano dell'incompetenza ho una bella lotta tra me e te, lei fa l'allenatore e faccio il giornalista. Senta, guarda, se lei vuole continuare io mi alzo e me ne vado. Lei si sta comportando in modo puerile, vergognoso. Io sono una persona per te, è chiaro o no? Ma lei è soltanto vergognoso, un megalomane e un incompetente. Tu sai l'amicizia che ho a Benevento, è chiaro o no? E queste domande preparate? No, 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 e vabbè, ma rispondi agli altri colleghi. Non rispondi a nessuno. E se sono un imbecille. Sono un imbecille. Lei è soltanto un imbombetente. No, ascolti, ascolti, lei, no, aspetta, questo c'è un ingerente se tu sei un pezzo di merda. Hai capito? Hai capito? Perché tu sei un pezzo di merda. Ma lascio. E chi te lo permette? Hai capito? Eh, è capito? Pezzo di merda. Voi imparato a dei. Ma aspetta! Ma捜 Contento! Ma meno, ma pace di manca. Ma aspetta! Ma aspetta! Alla esasz, vabbis, vabbè, vabbè, vabbè. Grazie a tutti! Grazie a tutti